Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa, un corpo che affonda le sue radici nella storia e prossimamente stanno per iniziare i corsi. Sì, il prossimo 30 di novembre è il termine ultimo per la presentazione delle istanze con la relativa documentazione per iscriversi al corso di infermiera volontaria della Croce Rossa. Il corso ha una durata biennale, è normato da un decreto interministeriale del 2010, firmato dal Ministro della Salute e dal Ministro della Difesa, perché sono i ministeri competenti dei quali il corpo e le infermiere volontarie dipende. Tra i requisiti per accedere al corso, la maggior età, è comunque un'età compresa tra i 18 e i 55 anni, il possesso del diploma di scuola superiore, la cittadinanza italiana, Un requisito indispensabile essere socio della Croce Rossa. Al termine del corso si consegue un diploma, il diploma di infermiera volontaria e le competenze che si acquisiscono sono di tipo sanitario, infermieristico e con un particolare orientamento per il settore dell'emergenza. Infatti l'impiego delle infermiere volontarie, una volta conseguito il corso, è previsto in tutte le operazioni internazionali e nazionali, umanitarie e in tutte le missioni di pace, sia in contesti di conflitto bellico che in ausilio alle forze armate. Infatti il corpo è un corpo ausiliario delle forze armate e l'impiego in operazioni di peacekeeping avviene proprio in supporto ai militari italiani. Voi siete assolutamente delle volontarie, ma perché si diventa volontaria della Croce Rossa, infermiere volontaria? Il servizio che svolgiamo con l'uniforme che indossiamo è un servizio gratuito e volontario, è una scelta di vita, è qualcosa che si fa probabilmente perché si desidera essere vicino al prossimo vulnerabile in una forma certamente di volontariato, ma un volontariato competente, che è quello che si svolge dopo aver studiato due anni, dopo aver acquisito delle competenze specifiche che poi sono spese dalle infermiere volontarie sia in contesti ospedalieri civili, in ambulatori civili di Croce Rossa, in ambulatori e contesti ospedalieri delle forze armate. Sono quattro imperativi che racchiudano l'operato delle infermiere volontarie e indicano la missione della sorella di Croce Rossa, delle Croce Rossine. Ama, conforta, lavora, salva. E per iscriversi? È possibile iscriversi prendendo informazioni in merito, dopo aver assunto le informazioni di carattere generale sul sito nazionale della Croce Rossa. In tutti i comitati della Croce Rossa italiana, dove insiste un ispettorato delle infermiere volontarie, si apre un corso, quindi si possono assumere informazioni dettagliate in merito rivolgendosi all'ispettorato più vicino alla propria sede di residenza.